Ciao! Oggi è venerdì. Sono molto contento perché questo weekend è un weekend lungo, perché lunedì è un giorno di ferie qui. E non ho i piani per il weekend, eccetto domenica, perché festeggiamo il weekend con una cena. Ma domani voglio andare all'azienda, e non so il nome per questo tipo, per vedere i colori, perché voglio pittorare questa stanza. Quando mi sono trasferito qui, ho pittorato tutte le stanze, eccetto qui, perché due o tre giorni dopo mi sono rotto la mano e ho deciso di non fare niente dopo questo evento. Perché è un po' difficile per me di scegliere un colore, perché con i libri, qui è il colore della libreria, e il legno è rosso. È un po' difficile per me, ma voglio un cambiamento, perché sono qui molte ore ogni giorno, perché lavoro qui. e ho un'idea di scegliere blu o grigio. Ma c'è una possibilità che cambierò mia idea quando vedo i colori. Ma non voglio pittorare la stanza questo weekend. Questo weekend voglio solo scegliere, voglio scegliere, scegliere il colore. Ok, e domani con le carte, con i colori. Non so il nome per la carta in italiano, ma in inglese pensa qualcosa. Quindi è per domani. Ok, ciao ciao!